Con la sottoscrizione del certificato di ultimazione dell'ultimo lotto, il Genio Civile ha completato i lavori di ripristino della sezione idraulica del fiume Verdura. Un impegno assunto e mantenuto nei confronti dei sindaci del vecino del sosio Verdura, che da tanti anni chiedevano un intervento organico di pulizia dell'alveo del fiume. Gli effetti sono ben visibili, adesso le acque, anche in occasione di pioggia abbondanti, non invadono più i terreni degli agricoltori, danneggiando le colture e determinando anche i rischi per la pubblica incolumità, ma scorrono tranquillamente nell'alveo in modo ordinato. Il Genio Civile di Agrigento, nell'arco di 18 mesi, è riuscito a redigere il progetto esecutivo, ad acquisire tutti i pareri necessari, ad approvare lo stesso progetto, ad appaltare e ad eseguire i lavori di regimentazione idraulica per uno sviluppo complessivo di circa 20 chilometri dell'alveo. In particolare, i lavori sono stati eseguiti nel tratto compreso tra il ponte sulla statale 386, a cavallo del confine tra i comuni di Burgio e Chiusa Sclafani, e la dismessa linea ferroviaria incontrata Verdura nel territorio dei comuni di Sciacca e Ribera, interessando anche i comuni di Calamonaci, Caltabellotta e Villa Franca Sicula. Siamo riusciti ad intercettare le risorse necessarie e superare una serie di difficoltà, dovute anche ai vincoli ambientali che riguardavano la zona, dichiarato il capo del Genio Civile, Rino Lamedola. Il progetto, aggiunto il responsabile unico del procedimento, Alfonso Micicè, ha impegnato complessivamente 6 milioni e mezzo di euro stanziati dal governo Musumeci ed è stato suddiviso in 5 lotti al fine di consentire alle imprese affidatarie di lavorare contemporaneamente e di completare i lavori prima che intervenissero nuove sondazioni che avrebbero potuto reiterare un fenomeno che per decenni ha danneggiato le culture dei terreni del bacino del fiume, alimentando notevoli rischi per la pubblica incolumità. A valle dei lavori del Genio Civile, i lavori di sistemazione idraulica del fiume Verdura sono stati anche realizzati dal Dipartimento regionale della Protezione Civile per il tratto che attraversa la contrada Verdura in attuazione di un vecchio progetto finanziato nel 2017. Oltre ai lavori sul fiume Verdura, la Regione, in materia di riduzione del rischio idraulico nel territorio agrigentino, ha disposto altri interventi, sempre seguiti dal Genio Civile nel corso dell'ultimo anno, che hanno interessato i fiumi Naro e Salso e i torrenti Garella e Tina nel territorio di Burgio e Cavarretto, Mirabile e Femmina Morta nel territorio di Menfi. Grazie a tutti!